Abbiamo pianto con voi, stiamo soffrendo con voi. Le parole rivolte dal parroco Don Vittorio Montagna nella sua omelia, nel giorno dell'ultimo addio a Sergio Guggo, le 62enne Lorena Zanin di 58 anni, uccisi dal figlio Diego a colpi di pistola. Parole rivolte ai familiari e ai più di mille fedeli arrivati per l'ultimo abbraccio. Nella chiesa del beato Claudio, Gremita ha rivolto la vicinanza della comunità alla famiglia, piegata dal dolore e dalla tragedia. Il ricordo dei coniugi, che qui ogni domenica venivano a messa, abitavano a poche centinaia di metri nella comunità della Pieve, si riunivano attivi nel volontariato e negli eventi. E la preghiera, toccante, rivolta al figlio 25enne Diego, affinché possa imboccare la strada del pentimento. Di tutti coloro che hanno un cuore capace di misericordia, prego il Signore di fare a Diego il don delle lacrime, di darmi sinceri e di un vero sofferto pentimento. Non possiamo, tuttavia, imitarsi al ricordo e al dolore. Possiamo e vogliamo alzare un giuardo verso il cielo di Dio. Se ne sono andati così, con le rose, azzurre e rosa, i due caschi sopra le bare, simbolo delle tante gite fuori porta che li vedeva sempre sorridenti, come li ricordano tutti, ad accogliere le salme al cimitero di Arzignano per la tumulazione nella tomba di famiglia di Lorena.